Circa 4500 anni fa, l'Europa settentrionale sta lentamente emergendo dall'età della pietra. Nel Mediterraneo non sono ancora germinati i semi di due grandi civiltà, quella greca e quella romana. In Mesopotamia, il potente impero Assiro fa ancora parte del futuro. Ma a sud, nella punta nord-orientale dell'Africa, si sta verificando un evento senza precedenti. Sulle sponde del Nilo, in Egitto, stanno sorgendo tre colossali piramidi. Monumenti alla civiltà più duratura che il mondo abbia mai visto. Monumenti alla civiltà più duratura che il mondo abbia mai visto. Erodot, lo storico greco, restò molto colpito quando visitò l'Egitto, circa 450 anni prima della nascita di Gesù Cristo. «Vi erano meraviglie superiori a quelle di ogni altra terra», osservò. C'erano piramidi più alte di ogni altra costruzione realizzata dall'uomo. «Viali di sfingi, esseri metà umani e metà bestiali. Ed enormi pilastri di pietra chiamati obelischi. C'erano statue gigantesche di faraoni morti da molto tempo e misteriose mummie rivestite d'oro e ovunque i simboli enigmatici della scrittura sacra». Qui, molto tempo fa, esisteva una civiltà che aveva prosperato per oltre 3.000 anni. Per gli antichi, l'Egitto era già antico. Cleopatra, che governò durante il primo secolo avanti Cristo, è più vicino a noi nella linea temporale che ai faraoni che costruirono le piramidi. L'Egitto è così vecchio che per secoli le sue origini furono avvolte dal mistero. Neanche gli Egizi sapevano con certezza quanto fosse antica la loro civiltà o da dove provenissero. Erodoto disse che l'Egitto era il dono del Nilo. Ma gli Egizi sapevano da sempre che la vita sul Nilo poteva essere molto precaria. Isolata da una sterminata distesa di sabbia, alla mercè di un fiume imprevedibile e di un clima con variazioni estreme, la civiltà egiziana fu in parte forgiata dalle realtà di un ambiente molto aspro. Gli Egizi lo chiamavano Caos. Sul suo fondale erano in agguato forze potenti che attendevano di potersi scatenare. Poiché i disastri potevano verificarsi in qualsiasi momento, gli Egizi si aggrappavano a un profondo credo. L'ordine, e non il caos, era il volere degli dèi. Per mantenere l'ordine e tenere a bada il caos, gli Egizi concepirono un re che era un dio vivente, l'incarnazione sulla terra di Oro, il Falco, il Signore dei Cieli. Il suo avversario era il dio sregolato, Seth, potenza distruttrice. fu l'eterno conflitto tra ordine e caos in definitiva che guidò il destino della civiltà egizia. Ma la vera storia di come ciò accadde si perde nell'antichità. Al crepuscolo della civiltà egizia, attorno al 300 a.C., un sacerdote di nome Manetone iniziò a compilare la prima storia completa dell'Egitto. Era un'impresa molto ardua, ma erano già stati scritti testi sull'argomento. Si trovavano nelle biblioteche dei templi e sui muri dei luoghi più sacri dell'Egitto. Un migliaio di anni prima della nascita di Manetone, il faraone Sethi I edificò a Dabido un tempio dedicato a Osiride, il dio dell'oltretomba. In una speciale sala degli antenati è raffigurato suo figlio, il futuro Ramesse II, mentre legge un papiro. Il documento, inciso sulla parete in geroglifici, contiene un elenco di 76 nomi di re disposti in ordine cronologico. Ogni nome è circondato da una corda annodata. Questo simbolo, che gli egittologi chiamano Cartiglio, identifica un re. Quei re governarono la storia d'Egitto per oltre 2000 anni. Basandosi sui documenti dei templi, Manetone organizzò la sua storia dividendola in 30 dinastie reali. Il primo nome dell'elenco è Menès. Il re Menès fondò la prima dinastia dell'Egitto attorno al 3100 avanti Cristo. Secondo Manetone, nei suoi 60 anni di regno, Menès ampliò i confini dell'Egitto e fu molto apprezzato fino alla sua morte, provocata da un ippopotamo. prima del re Menès l'Egitto era governato da semidei chiamati gli spiriti dei morti, ma i loro nomi erano ormai dimenticati. Gli spiriti dei morti appartenevano alla storia o alla mitologia. Dove ebbe realmente inizio la civiltà egizia? Strano a dirsi, non fu sulle sponde del Nilo. 110 chilometri a ovest del Nilo, nel deserto del Sahara, l'aria è così rovente e secca che la rarissima pioggia evapora prima di toccare terra. In questo paesaggio desolato vivevo una tribù di nomadi che potrebbero essere stati gli antenati dei faraoni. Fred Wendorf della South Air Methodist University di Dallas in Texas è il capo di una squadra internazionale di archeologi che ha battuto il deserto alla ricerca di segni di insediamenti umani. Nel 1974 localizzarono un antico insediamento sull'orlo di una conca poco profonda che chiamarono Naptaplaia. Il Sahara non è sempre stato così arido. La datazione con il carbonio 14 rivela che intorno all'8000 a.C. i monsoni estivi dell'Africa tropicale si spostarono a nord, aumentando la piovosità sul deserto e permettendo la formazione di laghi stagionali. uno di questi laghi era Naptaplaia. Qui, circondati da zone erbose in cui pascolare il bestiame, gruppi di persone potevano ripararsi dal caldo e dai capricci del deserto. Ma la pioggia era imprevedibile e senza la pioggia il lago si prosciugava. Tre giorni senza acqua rappresentavano la differenza tra la vita e la morte. C'era in pallio la sopravvivenza e avvenne una cosa straordinaria. Rumold Shield, della Polish Academy of Sciences, uno dei capi della spedizione, ha scoperto un minuscolo cerchio di pietre, uno Stonehenge in miniatura, ma di 2000 anni più antico. Crede che possa essere stato usato per predire l'arrivo della stagione delle piogge. Il modesto mucchio di pietre che vedete qui è in realtà uno dei più antichi calendari mai scoperti. Questo era formato da un anello di pietra e da altre due pietre, allineamenti di pietre verticali che io chiamo cancelli. Potete vederli qui e lì. Uno degli allineamenti punta esattamente a nord. L'altro invece, che potete vedere qui e che è rivolto in questa direzione, indica la posizione del sole il 21 giugno. È l'inizio dell'estate e l'inizio della stagione delle piogge in questa zona dell'Africa. Questo cerchio calendario era solo un assaggio di ciò che avrebbero trovato. Nelle vicinanze furono scoperte anche diverse pietre insolite disposte a cerchio attorno a pozzi profondi. Le pietre, alcune delle quali pesano oltre una tonnellata e mezza, non venivano da Naptaplaia. Erano state portate qui da una cava lontana. Per gli abitanti del deserto, trasportare e dirigere pietre così grandi richiedeva un'incredibile fatica e una grande organizzazione. La domanda è, perché? Fred Wendorf pensa che possano contrassegnare le tombe di persone importanti o onorare i loro spiriti. Forse erano persone così potenti da poter intercedere presso gli dèi e portare la pioggia. Uno degli oggetti più imponenti era in questo pozzo, che forse è l'ultima dimora di un governante o di un condottiero. Inizialmente sembrava un semplice masso, ma quando Wendorf l'esaminò più da vicino, scoprì che era una scultura primitiva. Abbiamo trovato questa grossissima pietra, accuratamente sagomata, in questo buco, circa un metro sopra l'affioramento roccioso a forma di fungo. Potete vedere come sia stata accuratamente lavorata e come abbiano levigato le superfici. Il bordo è affilato, si vede come siano riusciti a regolarne la lunghezza scavando solchi in questa faccia. Servendosi di un cuneo, hanno poi potuto togliere falde di roccia esattamente nei punti desiderati. Questa è una tecnica davvero degna di nota. Potrebbe benissimo essere iniziata qui la passione egiziana per la lavorazione delle grosse pietre. e anche un importante indicatore del livello sociale perché sicuramente fu necessario avere potere su un gran numero di persone che lavorassero questa roccia, che la mettessero in posizione, che dessero forma al basamento roccioso al di sotto e tutto questo per un notevole periodo di tempo. Ciò indica chiaramente che questa persona aveva un rango superiore agli altri. Qui, 7000 anni fa, i primi grezzi monumenti dell'Egitto sorsero dal deserto per onorare un recaduto e trasformare il caos in ordine. Ma per la gente di Napta Playa, le cose stavano per cambiare drasticamente. Attorno al 5000 a.C., i monsoni estivi deviarono nuovamente e questa volta verso sud. Le piogge cessarono e le oasi come Napta Playa si prosciugarono definitivamente. obbligate ad abbandonare il deserto, quelle genti si diressero ad est verso il Nilo. il Nilo è la linfa vitale dell'Egitto. Dalla sorgente in Africa orientale il fiume scorre verso nord per circa 6000 chilometri prima di raggiungere la valle del Nilo in Egitto. Un'oasi lunga circa 1000 chilometri. Per gli ultimi 160 chilometri si allarga in un ampio delta prima di sfociare nel mar Mediterraneo. in tutto il corso della storia egizia il Nilo è stato una benedizione e una maledizione insieme. Una volta all'anno gonfiato dalle piogge monsoniche dell'Etiopia il fiume straripava e depositava il limo ricco di sostanze nutrienti. Gli egizi lo chiamano terra nera. Senza il Nilo l'Egitto sarebbe sterile. Invece è una delle regioni più fertili della terra. Ma in passato il fiume era imprevedibile come la pioggia nel deserto. Un'inondazione eccessiva poteva distruggere i villaggi. Se era troppo scarsa c'era carestia. Per sfuggire al caos dell'incertezza gli egizi inventarono il primo calendario basato su tre stagioni di quattro mesi ciascuna. È simile al calendario che usiamo oggi. Ma questa volta non era per sorvegliare il cielo. Era per sorvegliare il Nilo. Il periodo in cui il fiume straripava era chiamato inondazione. Il periodo di emersione era quello in cui l'acqua si ritirava e si potevano piantare le messi. durante il periodo secco quando il Nilo era al livello più basso si procedeva al raccolto. Gli egizi scavarono pozzi costruirono dighe per proteggere i villaggi e svilupparono i rudimenti della geometria per ridefinire ogni anno i limiti delle proprietà. attorno al 4000 a.C., dopo che le genti di Nabta Playa si furono insediate nella valle del Nilo iniziarono ad apparire i primi barlumi della civiltà egizia. Ceramiche con bellissime decorazioni palette a forma di animale per mescolare i cosmetici e coltelli di selce così ben fatti che nessuno li ha mai eguagliati alcuni con impugnature d'avorio intagliato. Gradualmente tra il 4000 e il 3000 a.C. emersero due potenti regni. Poiché il Nilo scorre da sud a nord il regno che fiorì nel delta del Nilo viene chiamato Basso Egitto è la terra del Papiro. Il regno dell'Alto Egitto la terra dell'Alto si sviluppò invece nella valle del Nilo. I simboli dei due regni si intrecciano per tutto il corso della storia egizia. Indicano l'unione delle due terre che insieme formarono la prima grande civiltà del mondo. gli archeologi si sono chiesti a lungo come e quando avvenne l'unificazione. René Friedman della University of California Berkeley e i suoi colleghi stanno cercando indizi nel luogo in cui si trovava l'antica capitale dell'Alto Egitto. Che cos'hai lì Sean? Beh sembra che sia un uomo. Chiamata dai greci Ieracompolis la città del Falco fu la prima grande città egizia. Sei in grado di stabilire l'età? Fra i 35 e i 50 anni. I monumenti e le costruzioni sono spariti da molto tempo. Al loro posto abbondano i crateri scavati dai ladri. Un secolo fa gli archeologi pensavano che il deserto fosse ormai solo un cimitero saccheggiato che non valeva la pena di esplorare. Non sapevano che sotto la sabbia erano nascoste moltissime nuove informazioni. Scoperte più recenti mostrano che nel 3500 a.C. Ieracompoli era uno degli insediamenti più importanti lungo il Nilo. era lunga oltre tre chilometri una faccendata comunità di agricoltori amministratori artigiani e vasai. Questo vasaio produceva utensili da cucina per il vicinato firmava i suoi prodotti premendo il pollice nell'argilla bagnata sotto il bordo. 5.000 anni dopo la terra attorno al forno è ancora coperta di frammenti. Per un bizzarro incidente sul lavoro è possibile identificare la sua casa. Questi sono i resti della casa del vasaio. È la casa più vecchia ritrovata in tutto l'Egitto e dobbiamo la sua conservazione al fatto che il vasaio lavorava un po' troppo vicino a dove viveva. Fortunatamente per noi ma disgraziatamente per lui un giorno il vento cambiò direzione le fiamme del forno riuscirono ad arrivare fino alla casa e le diedero fuoco. Il fuoco arrossò e indurì mattoni di limo e fango locale che formavano la parte inferiore della casa e trasformò i pali e le stuoie delle pareti nella carbonella e nelle ceneri che possiamo vedere qui. Nella parte settentrionale della città c'era un vasto complesso industriale panifici fabbriche di birra e granai. ma la struttura più importante di Eracompoli fu scoperta nel 1985 quando gli archeologi si imbatterono in diverse buche profonde quasi due metri e abbastanza grandi da sostenere massicce colonne di legno alte sei metri. Queste colonne formavano la facciata di un imponente santuario che doveva dominare tutto il complesso dei templi e l'intera città di Eracompoli. questo è il più antico tempio egizio a noi noto. In nessun altro luogo il potere del re era più evidente. Durante le cerimonie rituali il re seduto su un trono sovrintendeva il sacrificio di animali al dio Falco Oro il patrono di tutti i futuri re dell'Egitto. il tempio era stato progettato perché evocasse la sagoma di un animale accovacciato con corna e coda vi abbondavano stuoi e colorate e colonne forse fatte di cedri importati dal Libano. Era il prototipo di tutti i grandi futuri complessi di templi e dominava il panorama di Eracompoli. La città del Falco però aveva una rivale Buto la capitale del Basso Egitto. Buto si trovava a nord dell'attuale Cairo nel delta del Nilo. Oggi non ne resta altro che un enorme cumulo di terra e detriti e queste pietre e statue che risalgono a 2000 anni dopo. ma in questo scavo gli archeologi hanno scoperto i frammenti di centinaia di vasi di argilla risalenti al 3500 a.C., periodo di Eracompoli e a epoche precedenti. Dina Faltings del German Archaeological Institute è la responsabile della spedizione e un'esperta nello studio delle terraglie antiche. Riassemblando i frammenti e confrontandoli con i vasi di Eracompoli ha fatto una sorprendente scoperta. Buto all'inizio della sua storia ospitava una cultura molto diversa. Le terraglie di Buto sono meno sofisticate di quelle dell'Alto Egitto. hanno preso un pezzo di argilla per il fondo hanno aggiunto qualche striscia verticale e hanno semplicemente unito il tutto premendo per chiuderlo e illivigato la superficie. Invece qui abbiamo alcune cose importate dall'Alto Egitto come questo vaso è un piccolo oggetto dalla forma elegante e la qualità si può sentire dal suono. il materiale è molto più compatto. È stata usata una tecnologia molto più avanzata. In Alto Egitto avevano forne migliori e ovviamente i vasai del Basso Egitto se ne rendevano conto e cercavano di imitare questi vasi ma la tecnica inferiore non permetteva loro di avere buoni risultati. Il lavoro di Dina Falting Sabuto rivela che nel 3100 avanti Cristo la cultura più avanzata dell'Alto Egitto si era propagata nel Basso Egitto e i due regni si erano fusi. Ma questa trasformazione fu pacifica o fu cruenta? L'unione dei due regni del Nilo fu una pietra miliare nella storia della civiltà egizia ma ci si continuava a chiedere come accadde? Tutto ciò di cui disponevano gli archeologi era un oggetto trovato a Ieracompoli nel 1898. Questa squisita paletta cerimoniale fatta di Ardesia risale circa al 3100 avanti Cristo. Fu un'offerta di un re dell'Alto Egitto di nome Narmer. Alcuni ritengono che fosse il leggendario re Menes il primo faraone d'Egitto. Su un lato c'è Narmer con in capo una corona bulbiforme sta per colpire un prigioniero alla presenza di oro il dio falco di Ieracompoli. Sull'altro lato della paletta Narmer porta una corona con una specie di lingua arrotolata e fa parte di una processione che avanza verso due file di prigionieri decapitati. I leoni con lunghi colli intrecciati simboleggiano l'unificazione. Le corone sono la chiave per comprendere la paletta di Narmer. Nell'Alto Egitto il re portava una corona bianca con la punta a bulbo. Nel basso Egitto una corona rossa con una lunga lingua sporgente. Insieme formavano una doppia corona il che significa che il faraone era diventato il signore delle due terre. Nei tremila anni successivi all'unificazione l'immagine del re con la doppia corona apparve sulle statue e nei templi di tutto l'Egitto per rafforzare il suo dominio su tutto il territorio. La paletta di Narmer sembrava confermare che l'unificazione avvenne dopo una sanguinosa guerra di conquista ma per un secolo fu l'unica prova finché non fu trovato un minuscolo oggetto nella più antica tomba reale egizia a Bido. Si riteneva che fosse l'ultima dimora di Osiride il dio dell'oltretomba. Il terreno è coperto da frammenti di vasi ciò che resta delle offerte a uno dei più importanti dei dell'Egitto. Molto tempo prima che i faraoni scavassero le loro tombe nella valle dei re o costruissero le piramidi i governanti dell'Egitto erano seppelliti qui in grandi tombe rivestite di mattoni. A Bido fu intensivamente esplorata all'inizio del Novecento. Fino al 1977 quando l'archeologo tedesco Gunther Dreyer riaprì il sito si riteneva che non vi restasse più niente. Da allora lui e la sua squadra hanno esplorato nuovamente le tombe di diversi antichi re tra cui quella del re Narmer. Dreyer è emozionato per la scoperta di un'etichetta di avorio. Etichette del genere erano originariamente apposte su vasi d'olio pur così piccola conteneva una grande sorpresa. Sembra descrivere lo stesso evento della paletta di Narmer. È un'etichetta d'avorio del re Narmer trovata vicino alla sua tomba. Queste etichette servivano a indicare la data di spedizione dell'olio. A quei tempi la data era indicata dal nome dell'anno e il nome era scelto in base all'evento più importante di quell'anno. In questo caso è la vittoria di re Narmer sul popolo del Delta e ovviamente è lo stesso evento descritto sulla famosa paletta di Narmer. Da questo possiamo dedurre che la paletta si riferisce a un reale evento storico che si verificò in un determinato anno. ma l'etichetta è solo un tassello del puzzle. Un'altra scoperta fatta ad Abido suggerisce che il processo di unificazione sia iniziato molto prima di Narmer. Sotto questi mucchi di macerie Dreyer trovò le tombe di re di una dinastia che era ancora sconosciuta. Ora gli egittologi la chiamano Dinastia Zero. Nelle tombe c'erano altre etichette ancora più sorprendenti della prima. Qui incisa nell'avorio c'è la prova netta del fatto che gli egizi avevano sviluppato un sistema evoluto di scrittura non solo prima di quanto si pensasse ma addirittura prima dei sumeri in Mesopotamia. Si era sempre creduto che fossero stati loro i primi a produrre un linguaggio scritto. Il più antico scritto sumero visibile qui era un sistema contabile composto da semplici immagini e numeri. La scrittura egiziana conteneva già segni che indicavano suoni come gli alfabeti moderni. Tutti i geroglifici su queste etichette rappresentano suoni. Il serpente indica il suono G. Insieme ai due triangoli rappresenta la parola giù che significa montagna. I simboli significano la montagna dell'oscurità che si riferisce all'ovest dove il sole tramonta. I geroglifici su altre etichette indicano che il re stava riscuotendo tasse sia dall'alto che dal basso Egitto. Un chiaro segno del fatto che l'unificazione era già avvenuta. per consolidare il regno fu costruita una nuova capitale esattamente sul confine dell'alto e del basso Egitto. Menfi fondata dal re Menès che diversi egittologi identificano con il re storico Narmer era destinata ad essere la città più importante della nazione. per 3.000 anni i faraoni avrebbero governato l'Egitto da Menfi al giorno d'oggi non ne restano altro che rovine ma nessuna risale al tempo di Ren Narmer per molto tempo gli egittologi hanno dato per scontato che l'antica capitale fosse sempre stata qui ma David Jeffries dell'Egypt Exploration Society crede che Menfi fosse altrove e ha dedicato nove anni alla sua ricerca usando un semplice trapano a mano ha effettuato una serie di carotaggi in campi a 3 chilometri a ovest delle rovine i carotaggi hanno rivelato un considerevole strato di manufatti 3 metri sotto la superficie la cosa tipica che ci aspettiamo di trovare in quest'area solo pochi metri al di sotto del punto che abbiamo raggiunto al momento è Vasellame nel livello più basso nel livello più basso del limo Vasellame che risale al periodo attorno al 3000 a.C. durante i primi regni dell'Egitto unificato indica che la capitale della nazione fu fondata in questa zona che cosa può aver fatto sì che la prima capitale della nazione una grandiosa città con palazzi e templi case ed edifici amministrativi si spostasse due grandi forze naturali il deserto e il Nilo siamo qui ai margini del deserto occidentale e vediamo la valle del Nilo con le rupi sul lato orientale la valle larga solo 7 km qui come del resto in ogni altro punto della parte nord della valle del Nilo stiamo guardando l'area in cui abbiamo eseguito i carotaggi e quello che riteniamo di aver dimostrato è che il fiume scorreva molto vicino a questo margine del deserto e che la città sorgeva lungo il suo corso proprio sotto a dove siamo noi e che via via che la sabbia avanzava dal deserto occidentale e contemporaneamente il fiume si spostava verso est la città seguì lo spostamento del fiume fino a dove si trovano oggi le già note rovine di Mitraina a circa 3 km sull'altro lato della valle il caos provocato dal Nilo che si spostava e dal deserto che avanzava perseguitò gli egizi per tutto il corso della loro storia per vincere questa eterna minaccia posero la loro fiducia in un unico uomo e nel potere degli dèi per proteggersi dal disastro gli egizi diedero al loro re un potere assoluto e lo venerarono come un dio solo un dio avrebbe potuto parlare con gli dèi e tenere lontano il caos per mantenere l'ordine chiamato Maat e personificato da una dea seduta con una piuma sulla testa il faraone eseguiva rituali quotidiani per appagare gli dèi costruiva elaborati templi e li riforniva di cibo bevande e altre offerte il caos si presentava sotto molte forme poteva manifestarsi come una violenta tempesta sabbia spinta dal vento del deserto o come un nemico straniero immagini dei faraoni in veste di guerrieri trionfanti si ripetono per tutta la storia dell'Egitto questa di ramesse secondo appare su un tempio costruito quasi duemila anni dopo la conquista del basso Egitto da parte di Narmer ramesse probabilmente non guidò mai un esercito in battaglia l'immagine è più simbolica che reale un messaggio per chi lo vedeva il re aveva compiuto il suo sacro dovere per mantenere il maat l'ordine divino probabilmente i faraoni non partecipavano neppure alle campagne militari nel 2280 avanti Cristo un importante funzionario di corte di nome Weni ordinò che sulle pareti della sua tomba venisse raccontata dettagliatamente la sua straordinaria carriera Weni racconta come il faraone re Pepi affrontò una tribù di predoni nomadi quando sua maestà decise di agire contro coloro che dimorano nei deserti orientali radunò da tutto l'alto Egitto un esercito di molte decine di migliaia di uomini c'erano nobili portatori di sigilli condottieri e dignitari io ero colui che li comandava l'esercito tornò integro aveva fatto scempio del territorio degli abitanti delle sabbie saccheggiato le roccaforti appiccato il fuoco anni di more sua maestà mi lo do immensamente per questa impresa con spaventosa potenza e forza distruttrice il caos poteva anche rompere dal nulla non lontano dal sito dell'antica Menfi in una cava di pietra a Helwan 32 chilometri a sud del Cairo c'è la più vecchia diga del mondo anche se è difficile immaginarlo dopo 4000 anni questo grande mucchio di pietre faceva parte di un enorme progetto per controllare le inondazioni affascinato dai primi esempi di tecnologia egizia Gunther Dreyer ha studiato dettagliatamente la diga ha calcolato che 500 uomini impiegarono 10 anni per costruirla trasportando circa 184.000 tonnellate di pietre la diga fu uno straordinario tentativo di contrastare e vincere il caos ma purtroppo non funzionò la diga attraversava lo wadi da là a là era lunga circa 100 metri e alta circa 13 la tecnica di costruzione utilizzata la rendeva piuttosto solida in sezione trasversale avrebbe avuto questo aspetto alla base una lunghezza di 81 metri in alto di circa 45 era composta da tre parti al centro sabbia sfusa di riempimento e su entrambi i lati pietre grezze ricoperte da blocchi squadrati di calcare purtroppo il fiume straripò prima che la diga fosse completata l'acqua arrivò fino a qui e distrusse la parte non ancora completata nel giro di pochi minuti un'enorme quantità d'acqua si riversò lungo lo wadi e distrusse tutte le installazioni più a valle e vanificò il lavoro compiuto da 500 operai in 10 anni per gli egizi che la costruirono questo disastro fu un tragico promemoria di quanto le forze della natura fossero distruttive e di quanto fosse necessaria una costante vigilanza a sostenere la civiltà più duratura del mondo fu la sua singolare visione del cosmo plasmata dall'ambiente circostante al centro di tutto c'era il re con le abilità sviluppate dai suoi antenati del deserto e affinate lungo le rive dell'eternamente mutevole Nilo manteneva l'equilibrio dell'universo attraverso la giustizia e la devozione combatteva gli implacabili assalti della natura i sovvertimenti sociali persino il soprannaturale ma alla fine restava un'immutabile battaglia contro il caos a cui nessuno poteva sfuggire anche se il re era considerato un dio restava pur sempre un uomo era destinato a morire per evitare le calamità ordinò agli egizi di iniziare a trasportare grossi massi fino al bordo del deserto rese gradualmente forma un nuovo tipo di monumento che avrebbe simboleggiato il trionfo finale del re il trionfo della vita eterna era iniziata l'era dei costruttori di piramidi del re che di per di di la Grazie a tutti.